in questo video volevo parlarvi di alcune funzionalità aggiuntive che ha solo il btnext pro grazie al fatto di avere due chip bluetooth come gli altri telefoni può abbinare un telefono sublime più e prendere sia la parte mono che la parte stereo e anche un telefono sublime meno ma del telefono che abbina sublime meno se negli altri si può prendere solo la parte mono in questo si può prendere anche la parte esterna in questo caso se voglio decidere se controllare il lettore mp3 del telefono abbinato su volume più oppure il lettore mp3 del telefono abbinato su volume meno dovrò premere 3 secondi il tasto volume più questo tasto mi attiverà il comando del lettore mp3 sul telefono piuttosto che l'altro inoltre con il btnext pro è possibile condividere sia l'audio mono che l'audio stereo con l'interfono con il quale si sta parlando in intercom oppure in conferenza ad esempio premendo questo tasto qua ascolterò la voce controllo sul volume meno a questo punto darò play in modalità phone alla musica quando ascolto la musica potrò passare in modalità intercom e aprire la comunicazione con l'altro interfono appena aperto la comunicazione la musica mi andrà in sottofondo con una piccola riduzione audio io potrò continuare a parlare con il mio interlocutore ascoltando la musica in sottofondo inoltre se il mio interlocutore lo gradisse mi potrebbe chiedergli di condividere la mia musica in questo caso invece premendo 3 secondi su volume meno attiverò la funzione public e quindi la canzone che sto ascoltando a questo telefono sarà passata in sottofondo al mio interlocutore se il mio interlocutore per qualche motivo non volesse più ascoltarla sarà sufficiente premere di nuovo 3 secondi su volume meno per ascoltare la voce private e ritornare ad ascoltare la musica solo io mentre traparlo con il mio interlocutore quindi Grazie a tutti